Cari fan di Super Gossip, benvenuti a un nuovo appuntamento con il meglio e il peggio, delle dinamiche di uomini e donne. Oggi vi portiamo nel cuore del dramma che sta scuotendo lo studio, il triangolo esplosivo tra Fabio Cannone, Gemma Galgani e la sempre incontenibile Tina Cipollari. Fabio Cannone è finito al centro di una bufera di segnalazioni che lo vedrebbero già impegnato con una donna in Spagna. La notizia, portata in studio dalla stessa Gemma Galgani, ha scatenato il caos. Lui nega tutto, ma nuove voci sembrano mettere in crisi la sua credibilità. Gemma, che inizialmente sembrava coinvolta, ha deciso di chiudere la frequentazione, lasciando Fabio a difendersi da accuse sempre più pesanti. La risposta del cavaliere non si è fatta attendere. Con una lettera letta davanti a tutti, Fabio ha puntato il dito contro Gemma, definendola falsa, bugiarda e interessata solo alla tv. Le sue parole hanno fatto infuriare Gemma, che tra lacrime e indignazione ha cercato di difendere il suo onore. Ma la reazione più sorprendente è arrivata da Tina Cipollari. L'opinionista, nota per il suo storico astio verso Gemma, ha deciso di schierarsi apertamente con Fabio. E non solo a parole. Nella puntata del 13 dicembre, Tina ha deciso di celebrare la sua approvazione verso Fabio con un gesto teatrale. Un ballo scatenato al centro dello studio, sulle note di Mezzorotto, di Alessandra Amoroso e Big Mama. La scena è stata esilarante. Tina e Fabio si sono lasciati andare a una performance memorabile, guadagnandosi una standing ovation da tutto lo studio. Beh, quasi tutto. Gemma, dal suo canto, ha cercato di fingere indifferenza, ma i suoi occhi lanciavano fulmini. E, puntuale come sempre, è arrivata la frecciata velenosa della dama, che ha accusato Fabio di calpestare i sentimenti. A questo punto è intervenuto Gianni Sperti, che ha riassunto il pensiero generale verso Gemma con un tagliente. «Sei pesante!» Ma il colpo di scena non finisce qui. Fabio ha chiesto a Gemma di poter fare pace. Le anticipazioni rivelano che il cavaliere, in un momento di rara vulnerabilità, ha invitato Gemma a superare le loro incomprensioni. La dama si è commossa, lasciando intravedere un barlume di riconciliazione. Maria De Filippi, con il suo solito tocco diplomatico, ha suggerito un ballo tra i due. Il momento però è durato poco e i due hanno scelto di non riavvicinarsi definitivamente. Ora, le domande sono tante. Fabio resterà in studio nonostante le segnalazioni. E cosa farà Gemma, divisa tra il desiderio di giustizia e un cuore ancora ferito? Una cosa è certa. Tina Cipollari ha segnato un altro punto nella sua storica rivalità con Gemma. Continuate a seguirci su Super Gossip per tutti gli aggiornamenti e il retroscena di questo intricato dramma di uomini e donne. Alla prossima!